Giuseppe Mazzitelli, 35enne, extronista di uomini e donne, è stato arrestato questa mattina a seguito di un blitz antidroga condotto dalla squadra mobile di Milano. Insieme a lui sono finiti in manetta altri tre presunti trafficanti di droga. Il gruppo era in possesso di 258 kg di hashish e 17 kg di marijuana, nonché 119.000 euro in contanti e 6 orologi di valore. L'operazione car sharing, definita così perché la droga veniva distribuita tramite autovettura a noleggio, è iniziata quando sono stati sequestrati 100.000 euro in contanti trovati 5 mesi fa all'interno di alcuni portacidi indirizzati verso la Spagna. Gli investigatori hanno individuato da subito quattro presunti trafficanti di droga e le indagini sono state condotte dal PM Maurizio Ascione, che oggi ha arrestato in flagranza di reato i quattro. Dalle indagini risultavano nullatenenti e senza lavoro, ma conducevano un tenore di vita benestante e avevano appartamenti anche a divisa.